È giunto alla conclusione, dopo un anno di lavoro, il progetto Dare Voce, realizzato dalla Misericordia di Borgamozzano con il sostegno della regione toscana. La biblioteca dell'ex convento di San Francesco ha ospitato la presentazione dei risultati emersi da questo importante lavoro, che ha permesso di prendere atto di disagi e criticità sociali presenti sui territori comunali di Borgamozzano, fabbriche di Vergemoli e la zona nord di Pescaglia. Sei giovani, guidati dal dottor Marco Picchi, hanno incontrato assistenti sociali, religiosi, volontari, insomma tutte le categorie di persone che a vario titolo potevano dare informazioni utili allo scopo di censimento e hanno realizzato una sorta di mappa dei cittadini bisognosi di sostegno. A questo punto inizia la seconda fase del progetto, quella dell'assistenza. L'indagine attraverso i colloqui, attraverso le visite, attraverso gli incontri con le persone di riferimento nei paesi ha monitorato le situazioni di bisogno che sono tante e anche articolate, dall'anziano solo fino al disabile, fino al disagio sociale, fino al disoccupato, le situazioni di bisogno che ci sono sui nostri territori. Oggi il compito grosso, importante, anche difficile della misericordia sarà quello di attuare interventi specifici a sostegno delle situazioni di bisogno.